E iniziano a costruire il mare di Geomach. Giocando si impara anche a rispettare l'acqua e l'ambiente. All'Istituto Gerolamo Cardano di Gallarate si è concluso oggi il progetto Super Drops proposto dall'Associazione Il Vespaio e sostenuto da Fondazione Cariplo. Un ciclo di incontri, attività, visite fino ad arrivare alla progettazione di un kit didattico. Quindi un kit che insegnasse loro, sensibilizzasse loro ai temi del risparmio idrico e della tutela del patrimonio dell'acqua attraverso il gioco. Da che cosa è composto il kit didattico? Il kit didattico è composto da un manuale che racchiude tutte le lezioni che loro hanno fatto più tutto il materiale che loro hanno creato. Quindi sono 30 giochi suddivisi per tematiche più un tabellone cartaceo con due giochi, uno sul fronte e uno sul retro. Abbiamo delle tavolette in plastica riciclata per la didattica all'aperto. Ci siamo divisi in vari gruppi dove ognuno di noi usava oggetti e creava dei giochi diversi. Il progetto non si è svolto soltanto nelle sei giornate in cui sono venuti gli esperti del Vespaio ma i docenti che si sono presi in carico l'attività lasciavano per casa degli approfondimenti per cui contestualmente a questo lavoro giocoso i ragazzi hanno imparato veramente tanto. Benvenga al green soprattutto quando alla teoria si fanno corrispondere anche esempi pratici e giochi che fanno capire ancora meglio ai nostri ragazzi le potenzialità di essere ecologici e di riciclare.